Buonasera amici della palla a nuoto e ben ritrovati dalla piscina comunale di Monte Rotondo Carica poi gira ancora per muro, 13 secondi, Gobbi, Maras, Maras, Marco, Maras 1 a 0 per i Leoni, in superiorità, 1 su 1 Allora va, Davide, prova a cercare un compagno libero e la parata E poi vediamo se c'è il tap-in, così è, assegno Francesco Vitola, 2 a 0 Il tap-in vincente del capitano a 3,56 Dall'altra parte attenzione, tiro il gol di Gregorio, accoscia le distanze da Rechi Va da 1, dall'altra parte Emanuele allo spazio, Emanuele, Emanuele, Emanuele Ferraro, segna lui, 3 a 1 in superiorità Superiorità, va, ancora una volta Devena, William, 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 William Devena 4 a 1 Roma-Visnova 5 minuti da giocare al termine della seconda frazione, 4 a 1, avanza Maras Che ha spazio, Marco, 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 il tiro Marco Maras Secondo gol per lui Gira veloce il pallone, la Rechi Tiro e il gol Accoscia le distanze E il tiro e il gol Dalla cortina numero 8 Serve in 5 gobbi, poi da play, Ferraro, Marco, Maras, c'è un pertugio Lo vede Emanuele, lo vede Emanuele, va a segno, Emanuele e Ferraro Avanza il capitano dall'altra parte Gli occhi, gratta Peccato, ma bravo Marco Maras a seguire l'azione A riprendere la palla, ancora Gli occhi Ancora Gli occhi E stavolta va a segno Va con la cortina numero 8 Gregorio Contro Bonito Il gol di Gregorio Prova l'alzo e tiro Anzi, trova Il gol di Marco Pazisi Finisce qua il match Torna la vittoria La prima del 2019 La Roma Visnova Sì, l'importante oggi era fare questi tre punti Però abbiamo sofferto un po' troppo Come hai detto te nella parte centrale Siamo partiti bene Come di solito ci accade qui a Monterodondo Però ci siamo un po' persi per strada Forse avendo allungato sul 5-1 Ci sentivamo troppo sicuri Abbiamo commesso degli errori banali Forse troppa voglia di chiudere la partita in fretta Credendo che fosse una cosa semplice Invece non lo era Fortunatamente riusciamo a fare i nostri punti in casa Ma dobbiamo iniziare anche in trasferta Fino ad adesso La trasferta di Palermo e quella di Latina Ci stavano le sconfitte Il derby eravamo rimaneggiati Quindi mal di trasferta sì Però diciamo che il nostro campionato in trasferta Deve ancora iniziare Siamo cambiati molto rispetto all'anno fa Siamo cresciuti Lo vedremo a fine campionato Non lo voglio dire adesso Quello che mi sento di dire È che ci portiamo dietro sicuramente Alcuni difetti che c'erano anche l'anno scorso Ed è su questo che lavoreremo Per migliorare la nostra classifica Sì come detto bene Giallo la partita non era per niente scontata Venivamo da una prestazione Poco lucida contro la Roma 2007 Dovevamo riscattarci E oggi così è stato Abbiamo concesso molto poco in difesa Per fortuna siamo stati bravi A chiudere i loro punti di forza E abbiamo portato a casa dei punti Ora abbiamo tre partite potenzialmente In cui possiamo conquistare nove punti Perché la prossima sarà un'altra partita in casa Poi andiamo a Crotone Che sarà un campo molto ostico E poi di nuovo in casa con i muri antichi Quindi potremmo portare a casa questi dodici punti Che sarebbero fondamentali per la classifica E per magari puntare più in alto verso i playoff Sì assolutamente Oggi ha fatto un'ottima partita a Matteo Iocchi Giocando titolare Che è un classe 2002 Lo stesso Lorenzo Pierdominici È un altro classe 2002 Quindi vuol dire che la cantera Insomma sta lavorando bene E i frutti si vedono in acqua Grazie a tutti Grazie a tutti